Musica E benvenuti su Cazzeggiamo su Videogiochi Oggi per voi Alfa, John G. Gimber E oggi ragazzi siamo qui, come avete già letto nel titolo Un contest Un contest lo faccio per ringraziarvi ancora una volta dei 100 iscritti Purtroppo Volevo fare lo speciale, c'era live però La fibra ottica non mi viene, non c'è Non la mettono Ho pagato già, non me la mettono Mi hanno chiamato e ho detto che lunedì c'è dopo l'8, 10, 12, 13, 14 Me la mettono, sperando Beh, dopo questa piccola parentesi ho detto Cosa potrei fare per il momento per ringraziare i 100 iscritti Un contest Però questo contest purtroppo riguarderà solo chi gioca a FIFA 15 su Xbox 360 E purtroppo sì E i mezzi economici sono questi signori E riguarda 15 pacchetti oro gratis di FIFA 15 Ultime, ultime team Usciranno 15 pacchetti Qui ho in mano il foglio che adesso faverò Faverò Faverò, mamma mia Farò vedere le foto C'è un codice che nuovamente oscreerò Sono come... Cioè Quindi questo codice è da riscattare Qua te lo dice il foglio Vabbè Quattivosa Te lo dice come riscattarlo E vi do questo codice Per partecipare Scrivere nei commenti Prima, dovete mettere mi piace Perché non lo so A piacere vostro se lo do mettere Se il video vi piace Mettizzolo Se no No E dovete scrivere nei commenti FIFA 15 E poi una frase a cacchio Così capisco che voi volete partorizzare a questo contest Quindi adesso Mettete il FIFA che più vi è piaciuto FIFA che più vi ha colpito Un giocatore di FIFA che vi piace più La squadra di FIFA che vi è piaciuta Non lo so Non lo so Quindi questo era il contest che vi ho fatto Volevo pure rendere un discorso Cioè Vedo adesso molti ragazzi Che hanno molti iscritti 200 300 150 110 Però Questi non sono iscritti reali Sono fatti col sub for sub L'ho fatto Infatti Alton L'ho conosciuto Con il sub for sub Però adesso non faccio più sub for sub Perché È una cosa inutile C'è Te ne accorgi prima di tutto Che è un canale fatto sub for sub Perché Chi ha molti iscritti Poche visualizzazioni Fortunatamente qualche visualizzazione In più ce l'ho Anche se sono poche Tra meno quelle 30 Quelle Che è 30 Con le 20 Quelle 30 Me li faccio Per un minimo video Quindi è inutile Facete sub for sub Io invece che faccio Non faccio sub for sub Però mi spam Io sono lo spammone Infatti scrivete nei commenti Dall'altro canale Se volete visitare il mio canale Iscrivete solo se vi piacciono i miei video Non vi iscrivete solo perché Volete fare sub for sub Perché ripeto Sub per sub Non lo faccio Iscrivete dopo aver visto il mio video E se vi è piaciuto Non è che poi fate sub for sub Vedete che io non faccio sub per sub E voi vi disiscrivete Perché è una gracchiata E lo ripeto È inutile fate sub Per sub Perché le visualizzazioni non entrano È un canale vuoto C'è nessuno che ti commenta Cioè a me non è che mi commentano tutti i video Vorrei parlare Vabbè Finito dopo Ho rotto tutto Ancora questa finestra di Windows Dopo ho finito questa piccola parentesi Il video finisce qua Ci vediamo al prossimo video Da Faggian Gamer Ciao 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 ciao